Onorevole, che esce il favore nei suoi confronti? Ieri la conferma anche dell'appoggio del PID, comunque già se ne parlava da tempo, anche di Leontini che con il suo movimento comunque appoggia la candidatura sua, però allo stesso tempo lei sta creando delle frizioni all'interno di future libertà. I giovani di Fli vogliono votare Nello Musumeci, invece i dirigenti più anziani non vogliono, tant'è che Bocchino verrà qua la prossima settimana proprio per discutere questa situazione. Premetto che non voglio creare nessuna frizione all'interno di nessun partito politico, prendo con piacere che all'interno del Fli si sia aperto un dibattito circa l'opportunità di candidare alla presidenza, di votare alla presidenza della regione, un uomo tradizionalmente legato alla cultura di centrodestra piuttosto che un uomo appartenente alla sinistra, penso a Crocetta o altre candidature non facilmente ascrivibili a una determinata cultura politica. Per quanto riguarda il contributo che il cantiere popolare potrà dare alla mia candidatura, ieri debbo dirle che alla manifestazione di Caltanissetta ho colto e ho registrato tanto entusiasmo, tanto interesse e quello che mi ha colpito di più c'erano molti anziani e molte donne, segno evidente che noi abbiamo bisogno di recuperare al rapporto politico l'anziano che si sente un peso spesso e invece può diventare un protagonista di questo processo difficile in una stagione assolutamente drammatica come quella che stiamo vivendo e le donne che sono una risorsa per la sensibilità femminile che è superiore a quella dell'uomo ma anche perché è il momento della mobilitazione generale. Vorrei lanciare un appello ai giovani che sono le vittime incolpevoli in questa stagione e in questa drammatica condingenza perché sappiano essere presenti alle proprie responsabilità, perché non si iscrivano più al partito della rassegnazione e perché diventino protagonisti del loro presente e del loro futuro, con tante insidie ma debbono prepararsi alle criticità della vita. Io a 14 anni non avevo più i genitori, sono caduto mille volte e mi sono sempre rialzato senza mai guardarmi indietro. Ecco, questo è il messaggio che vorrei lanciare ai giovani, anche se cadete, anche se vi fate male, rialzatevi ma prendete, come diceva Carlo Voitivo, prendete la vita con le vostre mani e fatene un capolavoro. Proprio ieri da Caltanissetta le ha anche detto, qualora dovesse diventare presidente, che con Roma è necessario che ci sia un dialogo per capire perché la Sicilia comunque è stata dimenticata in questi anni e cosa bisogna fare per l'autonomia della Sicilia. Si è parlato tanto di autonomia in questi anni e poi forse non si è mai realizzata. Vede, per aprire un tavolo sereno, io parlo di contenzioso perché crediamo di essere creditori con Roma, per aprire un tavolo sereno col governo centrale occorre che intanto la Sicilia abbia fatto appieno il proprio dovere e questo purtroppo non è avvenuto. E allora in un confronto sereno fra governo regionale e governo nazionale potremmo capire quello che ci deve essere restituito e quello che noi dobbiamo dare al governo della nazione. Senza sciocchi rivendicazionismi, senza fare i rivoluzionari di moda, senza fare i sanculotti. Perché ognuno deve poter fare la propria parte. Roma ha disatteso alcuni articoli importanti dello statuto siciliano, ma è anche vero che a Palermo lo statuto siciliano è diventato spesso l'alibi perché ognuno potesse fare gli affari propri. Noi dobbiamo impedire l'una e l'altra faccia della stessa medaglia. Secondo i sondaggi la lotta per la presidenza è tutta all'interno del centro-destra. Musumeci in vantaggio o Miciche segue a ruota? No, non mi occupo di sondaggi, devo dirle, e la storia non mi appassiona tanto. Io vado in giro a parlare alla gente e soprattutto a quella che aveva deciso di non andare a votare. Perché mentre la casa brucia nessuno si può permettere il lusso di far finta che nulla stia accadendo. Quindi il mio compito è quello di riaccendere la speranza nel cuore dei siciliani, dicendo loro che comunque andrà questa campagna elettorale, saranno anni difficili, ma lo debbono essere per tutti, per chi fa l'elettore e soprattutto per chi farà l'eletto. Sembra però non piacere l'idea di dimezzare gli stipendi dei parlamentari? No, assolutamente, guardi, io sono convinto che chi sta al vertice debba dare l'esempio. E gli esempi possono essere dati rivedendo l'emolumento del parlamentare, eliminando alcune sacche di privilegi che non appartengono soltanto alla classe politica. Ma ci sono molte, molte fasce nel mondo del lavoro e della produzione in Sicilia, e non soltanto in Sicilia, che potrebbero testimoniare altrettanto esempio. Insomma, se la cura dimagrante dobbiamo farla, dobbiamo farla tutti, a cominciare da chi deve dare l'esempio. Infine, secondo lei, quanti dell'Udc voteranno nello musulmaneci, visto che questo matrimonio con il PD non piace proprio? Beh, io mi auguro tanti, tantissimi, anche perché incontro ogni giorno elettori dell'Udc davvero imbarazzati, una forza centrista, una forza cattolica, una forza che è stata fra quelle che hanno costituito e fondato il centrodestra in Italia nella Seconda Repubblica, non può oggi stare con un candidato di sinistra, con un post comunista. Ecco perché io sono convinto che noi avremo tanto voto disgiunto alle elezioni del 28 ottobre. Tanta gente sarà costretta a votare per il proprio partito, collocato in altri schieramenti, ma per la presidenza voterebbe musulmaneci e questo naturalmente non può che farmi piacere.